Buongiorno dal Tevere, siamo qui ad Umbertide in occasione dei campionati italiani relativi al centro-sud. Ho incontrato Sandro Zucchini proprio in questa occasione e con lui vogliamo parlare della 22esima edizione dell'International Fishing Show. Manca esattamente un mese Sandro a questa... Un mese e tre giorni. Ecco, vedi lui proprio sta facendo il countdown perché diciamo che l'International Fishing Show per Umbertide è una festa proprio... È una festa ed è anche una ricchezza per il paese perché oltre al lato agonistico e sportivo c'è di mezzo anche al lato economico. Cosa che bisogna valutare, io lo dico sempre, lo ripeterò perché la pesca è il 70-80% del turismo ad Umbertide. Però diciamo che ormai sul calendario nazionale tra le varie festività per Umbertide l'International è diventata una delle più importanti. Allora, presentaci questa 22esima edizione perché so che hai limitato il numero delle iscrizioni dove l'anno scorso praticamente siamo andati su tutto il campo gara proprio per l'entusiasmo che c'era, per la voglia di riprendere. Quindi descrivici un po' dove hai limitato le zone soprattutto e cosa ci aspettiamo. Ho accolto le istanze di qualcuno che giustamente l'hanno passato, hanno avuto dei problemi sia con la pescosità, un pochino, si sono ritrovati spiazzati rispetto a quello che è il campo gara storico che è fatto con poca profondità, nel quasi 80-90% hanno trovato dei picchetti dei posti con 5-6 metri d'acqua e qualcuno ha storto un po' la bocca giustamente e io ho accolto le loro istanze e abbiamo quest'anno fatto il campo di gara che va dal Carpinalto fino al ponte sul fiume Tevere. Quindi 190 posti gara e lì chiudiamo. Quindi ritorniamo sul campo gara tradizionale. Fra le varie richieste che erano state fatte qualcuno chiedeva l'inversione dei picchetti per renderla più omogenea, ma te mi hai detto che ci sono delle problematiche per l'inversione del picchetto. Spiegaci qual è il problema. Allora le problematiche erano nate, noi già abbiamo ripetuto, abbiamo fatto negli anni passati questo esperimento, solo che si erano verificati degli episodi spiacevoli. In pratica c'erano delle persone che quando vedevano quasi alla fine della gara che erano messi male che facevano o non pesavano, quindi ributtavano giù il pesce in acqua e non era una cosa corretta nei confronti degli altri, o in pratica facevano proprio apposta, smettevano di pescare per andare sul picchetto migliore e allora l'ho abbandonato, mi dispiace per quelli che l'hanno proposto, però ho abbandonato proprio questa idea per questi motivi. Allora sappiamo che già sono iniziate ad arrivare molte iscrizioni, però Sandro non possiamo nascondere che attualmente il campo gara ha dei problemi perché vediamo onestamente poco pescato. E' la verità, si. Spiegaci magari il perché da profondo conoscitore del Tevere, quale possono essere le cause, i problemi. Allora io di preciso non credo ci sia nessuno che fosse in grado di arrivare al perché. Ci sono tante cose, ognuno dice la sua, dicono dei pesci, dei siluri che hanno mangiato i pesci. I pesci ci sono perché se tu vai a pesca e fiondile con i bigattini, vengono a gala dei cavedini mostruosi. Solamente che il cavedini di taglia grossa mangia qualche barbo, però i cavedini mangiano poco. Noi, io mi sono rivolto al presidente della federazione regionale, a cui ringrazio, presidente provinciale della federazione Tilde Attilio. E anche loro stanno cercando il perché questa situazione, che è un pochino gravosa perché si sta prolungando nel tempo. Allora che adesso si sono rivolti in prima istanza al tecnico, l'ex direttore del centro etiogenico del lago Trasimeno. Era dipendente della regionale, prima provinciale, poi regionale, che è una brava persona, una persona che conosce ammenadito, conosce i pesci dall'ala zeta. È stato quello, tra l'altro, che ci ha permesso di fare, tanti anni fa, una quindicina di anni fa circa, un ripopolamento mostruoso in tre anni. Si era verificata una situazione strana, che c'erano sul torrente Carpina, proprio alla foce, c'era una specie di buca di circa un metro di circonferenza, dove c'era pochissima acqua, tre o quattro centimetri, era pieno, pieno, pieno di questi pesciolini che erano le nascite. Allora io, una mattina andando su, mi resi conto di questa situazione. Mi chiamai il dottor Natale, Mauro, che ringrazio ancora ora, e gli feci presente la situazione. E lui mi disse queste parole, domani mattina ti chiamo. Al che la mattina dopo mi chiama verso le 9, 9.20, così insomma, e mi dice, dove sei? Dico, dottore, dove sono? Sono al lavoro. Vieni su. E vado alla foce del torrente Carpina. Arriva questo per farla breve, con un camioncino, c'aveva tre contenitori, uno con l'acqua del centro etiogenico, del lago Trasimeno, lì a San Feliciano. Un altro riempito a metà è uno vuoto. Hanno riempito questo prima, quello a metà, poi quello vuoto. Poi con una bilancia da un metro per un metro, con delle spessori talmente sottili che poco più che l'acqua neanche passava, hanno fatto questo recupero. Questa situazione l'abbiamo fatta per tre anni. Dopo sei mesi, puntualmente, lui mi chiamava e mi diceva, vieni a vedere, anche lui ha stimato in tre anni circa 375.000, è una stima sua, non mia, quindi mi fido ciecamente, e cominciamo con questi ripopolamenti. Ora, da quel momento, i cavedini proliferavano. Adesso si sono verificate, a questo momento, le condizioni più assurde, perché abbiamo avuto il mese di febbraio, caldo, per la stagione era caldo, sembrava primavera. Poi è venuto il mese di marzo, che ha cominciato la stagione delle piogge, e aprile si è fermato del tutto proprio, perché l'acqua, il livello dell'acqua è calato. L'ossigenazione, secondo il dottor Mauro Natale, lui dice che è probabilmente dovuta a questi fattori, al fatto che la frega è andata in ritardo, che molti pesci ancora sono in frega, né la riprova che tanta gente, magari andando a pescare nel fiume, lo vedono, quando prende dei pesci che sono pieni o di latte, o di latte. Quindi, secondo lui, dice, però, per fare una disquisizione esatta, bisogna che verifichiamo. E faranno la provincia, si è fatta carico, anche di fare dei prelievi, per vedere questo stato di acqua, perché problemi di inquinamento, è l'unica volta, l'unico anno, che noi non abbiamo problemi di inquinamento. Lo vediamo anche dalla qualità dell'acqua. Poi non ci sono odori cattivi, non c'è stiuma, roba, per cui uno può dire, io dico che se ci fosse un inquinamento chimico, comunque sia, l'effetto dell'odoroso ci dovrebbe essere, cioè, certe punze, certi odori, magari, sì, sì. E quindi è inspiegabile. Però, ecco, io mi auguro che, come dicevo prima, che nel tempo piova, che faccia una pioggia. Sicuramente è rigenerante anche un livello di piena che pulisce il fondale. Però, diciamo, la percezione, frequentando gli agonisti, è che tutti temono questo siluro, perché, cioè, il timore è dato dal fatto che a questo posto siamo tutti affezionati in una maniera incredibile, perché anche oggi lo vediamo dagli italiani, c'è gente che è venuta dalla Campania, c'è gente che è venuta dalla Puglia, perché a un vertile vogliono bene tutti, è un patrimonio unico questo qua, cioè, è un qualcosa di incredibile. E quindi, sai, questo timore qui, cioè, la percezione è proprio che ci sia la paura che il siluro abbia preso campo. Allora, a questo riguardo posso, diciamo, tranquillizzare per il fatto che la federazione regionale e provinciale hanno già attivato la regione Umbria, hanno fatto la richiesta per un intervento, lo fa un'azienda di Verona, che sono specializzati proprio, entrano in acqua, in pratica provocano, lo dico così in maniera conoscitiva, per quel poco che conosco anche io, vanno dentro il fiume, danno delle scosse elettriche, che non ammazzano i pesci, però li fanno risalire. Una volta risaliti, nel breve tempo, un minor tempo possibile, perché la scossa non deve essere né troppo forte né troppo debole, perché altrimenti ucciderebbe tutti gli altri pesci. In pratica eliminano questi siluri, che sicuramente fanno dei danni molto grossi, molto grandi. C'è un timore, perché sai, conoscendo altri campi gara, abbiamo visto che dove ha preso campo questo pesce, purtroppo... E quindi il primo intervento questo, è solamente che la regione adesso stiamo aspettando che il diverso tempo che hanno fatto questa richiesta e non ce l'hanno ancora data. Poi un'altra cosa che faranno, me l'hanno comunicato anche quella lì ieri, faranno delle analisi per vedere, come si diceva prima, lo stato di qualità dell'acqua, ecco, possibile. Ma boh, quindi non ci resta che dare appuntamento ai nostri amici per il 7, scusami, 7-8 di agosto. 7-8 di agosto, volevo aggiungere, salutare. Allora, noi quest'anno dedichiamo, questo ci tengo in maniera particolare, dedichiamo le due giornate dell'international a tutte le persone che sono state coinvolte, colpite dal virus e dall'epidemia. Bellissimi. E in particolare un saluto a tutti quelli che sono, diciamo, hanno avuto il virus e sono guariti. Certo. E in più un ricordo per coloro che purtroppo ci hanno lasciato pescatori e non pescatori. Questo ci tenevo. Poi noi facciamo il venerdì una pregara. Noi partiamo dal mercoledì, ma la pregara che è un trofeo intitolato al nostro grande amico Cenciarini Fabrizio. E ripeteremo come tutti gli anni la solita gara. Perfetto. Quindi appuntamento ai nostri amici? 22esima edizione International Fishing Show, 7-8 agosto. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.